Buonasera, l'Italia spende meno in sanità digitale, nonostante le promesse incardinate nei piani del governo e nonostante le pressanti richieste di medici e cittadini di avere servizi innovativi per diagnosi e terapie. E' quanto si legge nell'ultimo rapporto degli osservatori del Politecnico di Milano, che stima in 1,27 miliardi di Euro il valore 2016 di questo mercato, in calo, pensate, del 5%. La spesa complessiva dell'Italia per la sanità resta lontano dagli standard dei paesi europei avanzati. A mancare non è l'interesse per il digitale, anzi, le stesse stime dei ricercatori rilevano che cittadini e medici sono sempre più interessati all'uso digitale dei servizi sanitari. Per esempio, il 51% degli italiani ha utilizzato almeno un servizio online in abito sanitario, contro il 49% del 2015. Il 52% dei medici internisti e il 39% dei medici di medicina generale utilizzano app per consultare informazioni e linee guida e rispettivamente il 45% e il 32% per visionare articoli scientifici, report e così via. Ad avere un successo deludente sono i servizi digitali voluti dal governo, come il fascicolo sanitario elettronico, che sebbene obbligatorio è adottato solo da una manciata di regione e anche in queste spesso è poco usato da medici e pazienti che lamentano di non essere stati coinvolti nella realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguenza li trovano poco usabili, troppo burocratici e quindi appare o mai chiaro come l'innovazione digitale sia essenziale per andare verso una sanità sostenibile, ma occorre accelerare e rimuovere barriere inerte dell'innovazione, cominciando dal valorizzare al meglio le iniziative di successo già presente sul territorio italiano e europeo.